Mi reputo un uomo fortunato. Non sono stato vittima di pregiudizi antisemiti tranne che di uno, ma che non sembra neanche un pregiudizio, anzi, nella forma è il complimento. Sin da quando ero un moccioso di 4 o 5 anni me lo sentivo ronzare tutte le settimane nelle orecchie. Voi ebrei siete intelligentissimi. Calunnia! Calunnia grave. Abbiamo fra di noi schiere di deficienti patentati, con un aggravante che ritenendosi deficienti del popolo eletto sono anche dei gran rompiscatole. Forse l'intelligenza ebraica è qualitativamente superiore ad altre intelligenze? Andiamo, signori. Questa è un'idiozia. È quantitativamente maggiore questa intelligenza? Questa è un'idiozia ancora più grande che offende il buonsenso. Che cosa dunque? Oserei proporre la teoria del lievito. Il lievito è una sostanza singolare. Ne basta un pochino in un impasto inerte di acqua e farina e quell'impasto si sente preso da una smania espansiva. Direi che ecco forse è questo che rende la cosiddetta intelligenza ebraica non tanto migliore o maggiore quanto se mi è permesso un uso poetico del termine epilettoide. Ma un esempio mi soccorrerà meglio di queste chiacchiere teoriche. Domando perdono alle signore dell'uditorio, questo esempio è moderatamente scabroso. Nel senso che si svolge in un orinatoio pubblico maschile che preferisco definire la francese «pissoire publique pour Jean-Quilhomme» perché il francese è lingua straordinaria. In essa tutto diventa graziato. Prendete la cacca. In francese è cacà. Due signori assai distinti, uno con l'Oden e una lobbietta tirolese con la classica spighina e l'altro con un cappotto di cammello e una coppola di assai fine fatture irlandese stanno facendo pipì gomito a gomito in uno di questi pissuardi, c'è l'amica bianca, in serie, molto composti. A un certo punto uno dei due pisciatori guarda il vicino con la coda dell'occhio ad altezza d'occhio a bruciapelo e domanda «Mi eccellente amico, lei è ebreo, non è vero?» Il secondo pisciatore si rigidisce e in quei luoghi si fanno strani incontri e dice «Sì, e con questo ha qualcosa da dire lei?» «No!» dice il primo pisciatore rendendosi conto del possibile equivoco «No, non ho mio eccellente amico, niente da dire, ma mi permetta proseguire l'indagine. Io credo che la troverà interessante, dunque lei è ebreo. Posso a questo punto affermare con ottima approssimazione che se lei è ebreo lei è nato nella città di Chicago. Sbaglio!» A questo punto il secondo pisciatore è stupefatto, è vero, sono nato a Chicago. Guarda un po', ci siamo già conosciuti? «Sono pessimo fisionomista?» «No!» dice il primo pisciatore. «Mai incontrati, mi creda, ma mi permetta esaurire l'indagine, credo che ne resterà estasiato. Dunque lei è ebreo e di Chicago, a questo punto io posso affermare con assoluta certezza che lei in quella città viene nato tra la primavera del 1905 e l'inverno del 1906. Sbaglio! A questo punto il secondo pisciatore raggiante. Poh! Un veggente in un cesso pubblico. Lei è un mago, un medium, un indovino. È straordinario, io sono dell'agosto del 6, ma veramente no, no?» dice il primo pisciatore nessun medium, né mago, né indovino, né veggente. E solo che proprio in quell'anno, anno e mezzo, e proprio nella città di Chicago, il celebre rabbino circoncisore Frank Löwenthal tentò un nuovo tipo di circoncisione sperimentale che egli stesso ebbe a definire circoncisione transversale o anche circoncisione storta. «Mio eccellente amico, lei continua a pisciarmi sulle scarpe!»